Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale, oggi vi portiamo una notizia di calcio mercato molto interessante per tutti i tifosi del Foggia, attaccante Jacopo Murano è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero, scopriamo insieme i dettagli del suo trasferimento, le sue prime dichiarazioni. Jacopo Murano, la tua potenza nel 90, è un attaccante con una carriera ricca di esperienze in vari club italiani, cresciuto calcisticamente nello sport in Genzano, nel campo basso, ha esordito tra i professionisti con il Taranto nel 2010, successivamente ha giocato in diverse squadre come San Marino, Montichiari, Brindisi, Monopoli, Grosseto, Re Canatese e Savone in Serie D. Nel 2017 Murano torna tra i professionisti con la spada e il Trapani, per poi proseguire la sua carriera con il Potenza, Perugia, Avellino e più recentemente con il Picerno, dove nella scorsa stagione ha brillato diventando capocannoniere del Gironi C di Serie C Now, grazie ai suoi 20 gol. L'arrivo a Foggia Murano si è legato al Foggia con un contratto che lo porterà a vestire la mania rossonera fino al 30 giugno 2026. Nella sua carriera Murano ha accumulato 313 presenze tra Serie B e Serie C, segnando 102 gol e fornendo 9 assist. Con il suo arrivo a Foggia, il Foggia si assicura un attaccante esperto e prolifico, pronto a fare la differenza nella prossima stagione. Jacopo Murano ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. È una grande gioia per me arrivare a Foggia e indossare i colori rossoneri. Conosco Passione e la grande piazza e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, Forza Foggia. Con l'arrivo di Jacopo Murano il Foggia rafforza ulteriormente il suo reparto offensivo in vista della prossima stagione. Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità di Calcio Mercato e seguite da vicino la stagione del Foggia, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Commentate qui sotto con le vostre opinioni sull'arrivo di Murano al Foggia e attivate la campanella per i nostri prossimi video. Grazie!